Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video ancora una volta dedicato al mondo delle freccette al World Darts Championship che entra nella fase calda, da oggi iniziano i sedicesimi di finale, quindi partite leggermente più lunghe sui 7-7, quindi chi ne vince 4 passa il turno ci sono state tante sorprese, un mondiale interessante, come io mi aspettavo le teste di serie valgano quel che valgano, a parte i super top, gli altri possono essere eliminati sostanzialmente da chiunque però ci sono state sorprese anche ben oltre le mie aspettative, una persona nei commenti mi ha chiesto i miei pronostici di questo mondiale quindi i pronostici sono difficilissimi da fare proprio perché c'è grande equilibrio, perché anche i giocatori fuori dalle prime 32 teste di serie sono ipercompetitivi se beccano la giornata in cui gli entra tutto possono battere chiunque, quindi è difficile fare i pronostici però ci provo alla luce di tutte le partite del mondiale che ho visto, perché le ho viste tutte, e anche dello stato di forma dei giocatori in questo periodo dell'anno per gli appassionati di calcio ovviamente non si devono preoccupare, tornerò a parlare di calcio, il mondiale finisce il 3 di gennaio quindi mi libererò, si apre il mercato invernale che seguirò con molta attenzione, vi porterò sul canale i colpi di mercato più interessanti di questa finestra di mercato e sto preparando appunto un video dedicato alla finestra di mercato di riparazione allora, cominciamo con i miei pronostici, andrò in ordine di tabellone, non in ordine di programma televisivo cominciamo con Michael Smith, che è il campione del mondo in carica, che affronterà come da pronostico perché ai sedicesimi di finale sulla carta si dovevano affrontare le 32 teste di serie incrociate a livello di ranking quindi la prima contro la 32esima, la seconda contro la 31esima, invece ci sono state 9 eliminazioni di teste di serie che hanno fatto un po' saltare il banco però Michael Smith e Madars Razma era la partita prevista io vedo ovviamente il favorito Michael Smith, che ha fatto un ottimo secondo turno, un ottimo esordio contro un Deutz che l'ha messo in grave difficoltà, perché ha fatto una grandissima partita all'olandese e Michael Smith ha tenuto alto il livello, è un giocatore che può alzarlo ancora il livello e Razma è un giocatore solido, è un giocatore costante, è forte mentalmente, però non penso abbia possibilità in una partita lunga su 4-7 di poter mettere in difficoltà un Michael Smith che ha dei giri a vuoto ma che in una partita appunto lunga può tranquillamente recuperare per cui vedo un Michael Smith favorito, una partita da 4-1 per quanto mi riguarda il prossimo è Ross Smith contro Chris Dobey, anche qui sono arrivate le due teste di serie sulla carta dovrebbe essere la partita più equilibrata, perché la testa di serie è 16 contro la testa di serie è 17 secondo me verrà fuori una partita equilibrata, Dobey ha battuto in una battaglia meravigliosa William O'Connor per quella che è stata secondo me la partita più bella del mondiale finora quella da Chris Dobey e William O'Connor e ha mostrato un livello veramente alto Dobey tra l'altro reagendo anche a un momento della partita dove O'Connor sembrava in controllo quindi io vedo Dobey favorito rispetto a Ross Smith che viene da una bella annata ma che secondo me Dobey ha dei picchi di livello che Ross Smith non ha quindi vedo Dobey favorito ma una partita equilibrata che potrebbe concludersi al set decisivo quindi 4-3. La prossima è Rob Cross contro Jeffrey De Svan, De Graf scusate lo svedese naturalizzato svedese che ha sorpreso un po' tutti perché nel suo percorso ha fatto fuori Richie Daus che era favorito nella partita di primo turno e poi ha fatto fuori José De Sosa che al mondiale non ha mai sfornato grandissime prestazioni ma comunque la testa di serie 25 e soprattutto il quarto set tra De Graf e De Sosa quello che ha consegnato la vittoria allo svedese è stato impressionante ora non ricordo i dati ma De Graf ha giocato tipo a 118 di Average nell'ultimo set non sbagliava una doppia era incredibile perché De Sosa non ha giocato male la sua partita insomma è stato competitivo ma ha trovato di fronte un giocatore in grandissimo spolvero quindi De Graf non è una vittima sacrificale di questo sedicesimo di finale perché ha giocato due bellissime partite contro Daus e contro De Sosa contro due avversari tosti Rob Cross chiaramente parte favorito però dovrà lottare io mi aspetto una partita molto più equilibrata del previsto a meno che De Graf non senta maggiormente la pressione contro un super campione come Rob Cross che rimane favorito ma secondo me sarà dovrà giocare c'è il rischio di un 4-2 4-3 addirittura in rimonta per l'ex campione del mondo per The Voltage il prossimo è Johnny Clayton contro Shistov Ratajski anche in questo caso nessuna sorpresa sono arrivato alle due teste di serie Clayton viene da un'annata non esaltante al mondiale non ha mai trovato lo squillo decisivo ma nemmeno Ratajski ha mai trovato il grande squillo al mondiale tutti e due hanno fatto una partita di loro esordio di secondo turno non esaltante quindi non hanno mostrato grandissime cose ma entrambi possono alzare il livello in maniera sostanziale insomma hanno giocato tutti e due a 88-89 di average al turno precedente quindi entrambi possono alzare il livello io vedo, cioè chiaramente Clayton è più forte, è più completo anche come giocatore soprattutto Ratajski non ha un power scoring eccezionale quindi Clayton tirerà molte più doppie però nella partita di esordio contro Lennon Clayton ha sbagliato un quantitativo di doppie incredibile ma veramente tante cioè io penso abbia registrato un 28% in doppia una cosa veramente scandalosa quindi nonostante Ratajski abbia un power scoring inferiore e quindi arriverà a tirare meno doppie è però più preciso in zona checkout quindi io qua mi gioco la sorpresa mi gioco Ratajski che butta fuori Clayton con una partita ovviamente equilibrata non credo un'asfaltata però penso che Ratajski possa scamparla e passare il turno andiamo all'altra parte di tabellone qui abbiamo Jim Williams che è stato l'esecutore di Peter Wright che ha giocato molto male la sua partita comunque due volte campione del mondo uscito al primo turno non è la prima volta che Peter Wright fa una brutta figura al mondiale Jim Williams invece ha fatto vedere buone cose e affronterà Raymond Van Barneveld allora Van Barneveld che ha fatto una grande partita contro Shagansky che non ha affrontato il campione olandese come controfigura insomma lo vedo favorito per me Van Barneveld è il favorito è un giocatore che è rientrato nel circuito in maniera seria dopo aver abbandonato può essere rientrato con la Q-School insomma è rientrato a pieno regime è forte ovviamente non è secondo me competitivo se dinanzi a sé trova un giocatore che strafa però Jim Williams secondo me non ha le doti per poter fare una partita da 104 di average poi l'everage vuol dire e non vuol dire però secondo me non ha le doti per fare quel tipo di partita quindi vedo un Van Barneveld favorito neanche di poco quindi mi immagino un 4 a 1 partita sorprendente perché nessuna testa di serie è arrivata in questo scontro è quella tra Matt Campbell e Luke Littler Campbell ha fatto due bei primi turni perché Ilagan è un giocatore molto sottovalutato del circuito secondo me invece è un giocatore forte non fortissimo chiaramente però come primo turno è un avversario ostico e poi ha battuto Wade in una partita non semplice dove Wade ha tirato tanti cazzotti psicologici a Campbell che ha dimostrato di avere una grande forza mentale mentre Littler era grandissima sorpresa del mondiale campione giovanile, 16 anni esordio storico, clamoroso perché ha giocato a 106 di media alla sua prima partita del mondiale disintegrando Kist che non è l'ultimo arrivato e poi al turno successivo si è sgonfiato un pochino Littler a livello di qualità tecnica del gioco però ha fatto fuori Andrew Gilding che delle teste di serie forse era almeno competitivo nonostante fosse il numero 20 però perché ha vinto un grande torneo in questo anno che gli ha fatto salire tante posizioni di ranking però Gilding secondo me non è stato molto competitivo però ho visto un Littler già sgonfiarsi dalla prima alla seconda partita e secondo me a seguito del Natale tra l'altro la mamma ha pubblicato sui social la foto di lui che scarte il regalo tutto felice seduto davanti all'albero perché comunque ha 16 anni non lo vediamo al mondiale tirare freccette e fare grandi chiusure ma ha 16 anni quindi è un adolescente io penso che possa sentire la pressione perché per la prima volta Littler parte da favorito perché ha fatto due grandi partite perché ha buttato fuori due grandi giocatori e Campbell è arrivato lì per alcuni per caso quando in realtà secondo me Campbell ha meritato entrambi i passaggi di turno contro due avversari molto forti quindi io vedo Campbell favorito perché secondo me Littler potrebbe subire la pressione di essere il favorito adesso non è più la sorpresa ci sarà il pubblico che lo supporta quindi per me Littler perde passa Campbell in una partita che si prospette equilibrata ma per me passa Campbell prossima partita è quella tra Gavin Price e Brandon Dolan Brandon Dolan ha dato il via al derby nordirlandese bellissimo contro Mickey Mantle è l'unico che si è concluso al sudden death quindi all'ultimo leg dell'ultimo set partita equilibratissima molto divertente una bella partita tra due amici e due connazionali però per me non c'è speranza contro Gavin Price che è troppo più forte cioè è troppo più forte a livello mentale a livello tecnico a livello di concentrazione Dolan è molto esperto ma secondo me farà una brutta fine mi aspetto una partita da 4 a 0 4 a 1 prossima partita è quella tra Boris Kirchmar e Gary Anderson Kirchmar ha fatto fuori Dirk Van Duffenbode che non stava bene a livello fisico si è visto che non era al top però la sua partita l'ha fatta Dirk è stato è stato Kirchmar che ha tirato fuori una prestazione veramente di altissimo livello e e Kirchmar comunque al primo turno aveva fatto fuori anche Kigan Brown che anche in quel caso non è l'ultimo arrivato quindi Kirchmar arriva meritatamente ai sedicesimi di finale dove affronta un Gary Anderson re di vivo un Gary Anderson di alto livello che ha schiantato disintegrato Whitlock in una partita di altri tempi ma dove Whitlock ha giocato a livelli bassi ma Gary Anderson ha sfoderato una bella prestazione è favorito Gary è favorito Gary Anderson ma non è una partita secondo me scontata secondo me può venire fuori un 4 a 2 per Gary Anderson prossima partita andiamo dall'altra parte del tabellone abbiamo un incredibile derby olandese tra Michael Van Gerwen ovviamente che rimane per quanto mi riguarda il favorito per la vittoria finale e contro Venstra Venstra che esordiente al mondiale non ha ancora perso un leg ha vinto 3 a 0 entrambe le sue partite il secondo turno ha disintegrato un Kimai Brecht che ha giocato malissimo indubbiamente però Venstra ha giocato a 100 di average ha dimostrato una grande sicurezza in zona shakeout anche con chiusure lunghe anche sotto pressione insomma un giocatore venuto fuori dal niente a questi livelli ma che ha dimostrato di saperci fare Van Gerwen è un'altra cosa io ho la sensazione che Venstra abbia tirato fuori il meglio di sé contro Kimai Brecht e quindi non riuscirà a replicare la prestazione contro Van Gerwen che senza strafare secondo me vincerà agilmente quindi mi aspetto un 4 a 1 4 a 0 per MVG la prossima partita è un'altra sorpresa perché Florian Hempel ha fatto fuori Dimitri Vandenberg come due anni fa e affronterà Steven Bunting che è stato il giocatore che finora ha fatto la prestazione a livello di average più alta del mondiale con 107,28 partita mostruosa contro un Ryan Joyce che non ha giocato male che aveva fatto un grandissimo primo turno contro Spellman ha fatto una bella partita anche contro Bunting ma non c'è stata partita non per incapacità di Joyce per una partita sotto tono di Joyce ma per una partita mostruosa da parte di Bunting che al mondiale si trasforma veramente sfode la prestazione di altissimo livello che durante l'anno raramente riesce a replicare parte favorito Bunting assolutamente parte favorito Bunting ma la vittoria di Hempel contro Vandenberg è stata impressionante per una partita giocata a livelli non eccellsi da nessuno dei due ma Hempel è uno di quei giocatori che non muore mai che è sempre concentrato che è sempre pronto diciamo a risorgere e che tira fuori frecce clamorose nei momenti cruciali e quindi Bunting non deve necessariamente replicare la prestazione contro Joyce però deve giocare bene perché se gioca un po' sotto tono Hempel ne approfitta è uno che non si lascia sfuggire tanti regali da parte dell'avversario Hempel a me piace tantissimo come giocatore di quelli diciamo fuori dai grandi è il mio giocatore preferito quindi io tifferò Hempel però secondo me passa Bunting per una partita da 4 a 1 4 a 2 prossima partita è quella tra Scott Williams e Martin Schindler in partenza secondo me una delle partite meno spettacolari di questi sedicesimi Williams ha eliminato Danny Hopper è un altro giocatore che al mondiale si esalta poco e che ha giocato male Williams l'ha disintegrato 3 a 0 proprio senza storia Schindler ha fatto un'ottima partita contro un Wattimena che è stato l'esecutore della della regina del palazzo della Queen of the Palace di Fallon Sherrock Wattimena a me sta di un antipatio non veramente non penso sia il giocatore più antipatico del circuito per quello che è il mio gusto personale quindi sono contento quando viene eliminato Schindler ha fatto un'ottima partita parte favorito contro Williams ma secondo me è una partita da set decisivo da 4 a 3 dove chiunque può passare vedo leggermente favorito Schindler per una questione di esperienza però sono e poi i tedeschi stanno andando molto bene in questo mondiale quindi anche per una questione diciamo nazionalista tedesca vedo favorito Schindler però Williams non è arrivato non è arrivato lì per caso e secondo me può può dire la sua quindi porterà secondo me Schindler al set decisivo altra partita sicuramente inaspettata è quella tra Damoneta e Barry Vampyr che ha eliminato Josh Rock Josh Rock che tra l'altro io al predictor di Diddle for the Middle l'avevo preso nonostante non è che venisse da una grande da una grande stagione però aveva fatto un mondiale d'esordio clamoroso l'anno scorso comunque un giocatore che ha dei picchi importanti e poi secondo me era in una parte di tabellone dove poteva andare molto avanti e invece è stato eliminato al primo turno da un Vampyr che ha meritato di passare il turno è un giocatore che non ha picchi di gioco particolarmente alti ma che è un giocatore costante nel suo giocare e aveva eliminato anche Woodhouse al primo turno e anche Woodhouse non è l'ultimo arrivato Damoneta non mi è piaciuto molto alla prima partita a parte l'ingresso in pedana con la parrucca tipo Goku fiammeggiante però non mi ha convinto Damoneta quindi attenzione a Vampyr che potrebbe clamorosamente raggiungere un ottavo di finale che nessuno si sarebbe aspettato però Damoneta non lo vedo particolarmente competitivo in questo mondiale quindi ci può scappare la sorpresa per me Vampyr può vincere anche 4 a 2 poi andiamo all'ultime 4 partite del tabellone allora abbiamo Luke Humphries contro Riccardo Pietresco Pikachu giocatore fantastico perché uno che entra in pedana con la sigla dei Pokemon già di base è un eroe ancora più eroe di lui è Leung giocatore di Hong Kong che entra con la sigla di Digimon cioè i Digimon questi qua sono un grandissimo appassionato di Digimon sentire la canzone di Digimon anche se in versione cinese al mondiale di Frecette cioè per me è stata l'estasi più totale tra l'altro giocatore molto forte Leung si era visto anche la World Cup of Darts che non era uno sprovveduto insomma ha venduto cara la pelle però torniamo a Humphries contro Pietresco allora Humphries non dico il favorito perché per me il favorito è sempre Van Gerven però viene da una stagione incredibile soprattutto forse il giocatore più in forma del momento perché negli ultimi due mesi ha vinto tre grandi tornei perché è un giocatore che gioca a livelli veramente alti l'impressione nella partita in cui ha vinto 3-0 contro Evans è che non si sia impegnato nemmeno nel senso che molto spesso quando l'avversario gioca male a 80 anche uno che ha il potenziale di giocare a 105 gioca a 85 perché comunque il grande livello ti viene frascinato anche dal grande avversario ecco perché Venstra ha sorpreso contro Heibrecht perché Heibrecht stava giocando malissimo ma Venstra è stato cioè sempre di livello alto non si è fatto calare nella sua prestazione dalla prestazione dell'avversario quindi Humphries non ha fatto grandissime cose al primo turno contro Ricky Evans è contro Lee Evans però per quanto mi riguarda è un giocatore che può raggiungere vette incredibili quindi Pietresco che è uno delle giovani promesse secondo me ha sorpreso molto soprattutto nella partita contro Calla Rizza che è stata una delle più belle del mondiale Rizza ha fatto la sua partita ma Pietresco ha giocato meglio secondo me la gioventù folle di Pietresco può mettere in difficoltà Humphries per me Humphries arriva in fondo al torneo quindi per me è favorito quasi sempre nelle partite che affronterà fino alla semifinale però Pietresco secondo me è uno dei più tosti che poteva trovare quindi mi aspetto una vittoria di Humphries ma combattuta da 4 a 2 4 a 3 poi abbiamo Joe Cullen contro Ryan Searle qui sono arrivate le due teste di serie partita musicale perché Ryan Searle è heavy metal e Joe Cullen è rock star quindi partita diciamo curiosa sotto sto punto di vista vedo favorito Cullen perché Searle è un giocatore molto discontinuo si prende veramente tanti giri a vuoto spesso anche quando comincia lui a tirare quindi si fa breccare spesso e Cullen è invece un giocatore che magari non raggiunge livelli altissimi a parte in quella partita meravigliosa del mondiale di mi sembra due anni fa contro Clayton dove o due anni fa o l'anno scorso insomma tra Clayton e Cullen che poi passò a Clayton una partita clamorosa dove Cullen giocò a un livello stratosferico è un grande giocatore Cullen però è un giocatore molto più costante è un Wade 2.0 per intenderci mentre invece Searle è un giocatore che va a fiammate e secondo me nelle partite lunghe i costanti sono favoriti rispetto a quelli che vanno a fiammate per cui Cullen lo vedo favorito su Searle sarà una partita combattuta poi abbiamo Ricky Evans contro Daryl Gurney Ricky Evans che ahimè ha buttato fuori il mio giocatore preferito cioè Nathan Aspinall Aspinall che non stava bene aveva un problema ma la spalla così ho letto effettivamente la prestazione Asp è stata molto sotto tono Evans però ha giocato benissimo cioè soprattutto i primi due set probabilmente anche un Aspinall in forma l'avrebbe persi comunque con i due set contro un Evans in quelle condizioni e arriva a questa partita contro un altro giocatore che ha sorpreso tantissimo che è Daryl Gurney che è andato un po' in malore è stato un giocatore anche da Premier League è arrivato anche nella top 5 del ranking mondiale in una fase della sua carriera è calato molto però ha fatto una prestazione contro Beaton veramente di altissimo livello con grande precisione in doppia con un power scoring come al suo solito importante vedo favorito Daryl Gurney vedo favorito Daryl Gurney perché mi sembra bello concentrato bello inquadrato in questa partita Beaton ha giocato bene e al contrario di Aspinall che non ha messo in grado di difficoltà Evans invece Gurney ha dovuto soffrire contro Beaton era andato anche sotto ha reagito quindi secondo me sono arrivati segnali molto più incoraggianti da parte di Gurney che da parte di Ricky Evans e per me passa Gurney in una partita però che sarà molto molto equilibrata ultimo match quello tra Dave Cisnell e Gabriel Clemens e allora Cisnell è forse il giocatore più impronosticabile di tutto il tabellone perché è un giocatore che ti può tirare fuori una partita da 110 in qualsiasi in qualsiasi momento del mondiale contro qualsiasi avversario come ti può tirare fuori una partita da 82 cioè è un giocatore veramente impronosticabile però storicamente una prestazione da fenomeno la fa tutti i mondiali poi di solito la partita dopo poi fa cagare e va fuori senza nemmeno combattere però una partita da fenomeno la fa tutti gli anni e contro Cameron Menzies non ha giocato una grandissima partita ha giocato quello che è bastato per far fuori lo scozzese però non ha giocato una grande partita mentre invece Clemens ha fatto una partita di grande freddezza contro un Leung che ha giocato bene ma che ha lasciato troppo opportunità a Clemens che è da lontano con le chiusure lunghe con con una freddezza in doppia nei momenti cruciali da da grandissimo giocatore ha eliminato il i giocatori di Hong Kong ecco io dico Clemens è un giocatore difficilissimo da battere perché è uno che non si scompone mai e che ha questa capacità da dietro di di recuperare leg che sembrano persi un po' come è sempre stato Van Barneveld ha questa capacità però se Cisna becca la partita la sua partita finisce 4-0 allora io voglio scommettere su Cisna voglio scommettere che questa sarà la grande partita di Cisna dove vince 4-0 poi al turno dopo contro Richie Manson Darielger ne verrà asfaltato però io mi immagino un Cisna devastante in questo turno quindi per me è un 4-0 per Dave Cisna il mio video con i pronostici termina qua ovviamente sarà seguito poco verrà seguito poco perché ho aperto il canale per parlare di pallone poi in questa settimana guardo le freccette siccome il canale era stato inattivo qualcuno si era preoccupato porto dei video sulle freccette qualcuno si è appassionato qualcuno si sta interessando sono contento perché è una disciplina bellissima da vedere e quindi sono contento di farvela conoscere magari di aiutarvi a farvi appassionare a questo bellissimo sport perché per me è uno sport e poi tornerò chiaramente a parlare di calcio e ad avere i miei il mio seguito insomma che è interessato al calcio le freccette lo capisco non è che pretendo che i video sulle freccette siano seguiti quanto quelli sul calcio ci mancherebbe noi ci vediamo dunque ai prossimi video porterò il video sul calcio mercato invernale lo sto preparando e poi forse porterò qualcos'altro sulle freccette ma non lo so perché insomma se arriva alle fasi calde se qualcuno vuole qualche altro video sulle freccette sono ben contento di portarglielo però il canale è dedicato al pallone un carissimo saluto a tutti ciao